A Cosenza si è svolta la cerimonia di celebrazione delle settantennale di ConvCommercio Cosenza, una cerimonia alla quale hanno preso parte autorevoli esponenti del mondo politico, civile e sociali, rappresentanti delle forze dell'ordine e imprenditori. Presidente Algeri, si vince se si è forti, si è forti se si è insieme. Potrebbero essere racchiusi in questo slogan i 70 anni della ConvCommercio di Cosenza, che oggi celebra appunto i suoi 70 anni di vita? Ma questo è il film che oggi presentiamo per i 70 anni della ConvCommercio di Cosenza. Lo presentiamo in un film che a livello nazionale ha vinto come la migliore regia e miglior film in ConvCommercio, su quasi 200 partecipanti. È un po' la storia di tutte quelle che si è dette in questi anni, racchiuso in questo cortometaggio. Oggi noi festeggiamo i 70 anni di ConvCommercio Cosenza, 70 anni che hanno avuto una vita da dopoguerra in poi. In realtà noi siamo i primi, insieme al Reggio Colabio, da 1945 a aver delito al ConvCommercio nazionale. Ma la prima sede è del 1946. Oggi 70 anni di una lunga storia, ma una storia che abbiamo fatto da dopoguerra in poi in questa provincia. Una storia dove abbiamo rappresentato il terziario, quindi il commercio, il turismo, i trasporti, i servizi. E in realtà hanno avuto degli uomini, come il primo presidente Passarella e come anche il presidente Petraglia. Del resto, se siamo qui oggi nella sala Petraglia, è per dimostrare che in realtà tra l'istituzione e il sociale c'è stato sempre un po' il rapporto. Ma nei nostri 70 anni, che l'abbiamo dovuto fare così abbastanza silenziose con il nostro consiglio, la nostra assemblea, con delle autorità, l'abbiamo fatto in un modo soprio perché è quel discorso che noi pensiamo ormai al futuro. Da oggi in poi si parte. E si parte in realtà con un modo nuovo che abbiamo mai impostato da qualche anno. In un modo silenzioso, in un modo di fare, in un modo trasparente, in un modo verso la legalità. Durante la serata è stato proiettato il cortometraggio Guarda Lontano, giudicato dalla Confederazione Nazionale come film che meglio rappresenta i valori e l'identità del mondo confcommercio, aggiudicandosi il premio come miglior film e miglior sceneggiatura. Oggi noi festeggiamo i nostri primi 70 anni ed è davvero una grande emozione. Per noi questo non è un momento di arrivo ma davvero una partenza. Forti della consapevolezza di poter fare tanto per il territorio e forti anche della consapevolezza di rappresentare una grande classe di imprenditori.